Hola amigos! Oggi è venerdì e siamo in cucina con Dado e il mio libro di ricette dice risotto alla Tony Royster. Risotto alla Tony Royster? Ma cos'è sta roba? È un esercizio fichissimo, l'ho visto fare dal fenomenale batterista americano e suoniamo quattro battute in sedicesimi. La prima colpi singoli, la seconda colpi doppi, la terza paradiddle e la quarta inverted paradiddle. Ti faccio sentire come suona. La finalità di questo esercizio è non solo studiare i quattro rudimenti che sono dei rudimenti, importanti, ma anche avere un grande controllo dei vari sticking in uno spazio relativamente breve, solamente una battuta. Proviamolo un po' veloce dai, così poi taglio il salame. Nelle note ti metto anche la versione che ho visto fare da Tony Royster su Dramio a una velocità imbarazzante. In effetti ho personalizzato un pochino l'esercizio perché la sua versione è singoli, doppi, paradiddle, doppi e ricominci. Io ho messo l'inverted paradiddle, ma anche tu lo puoi personalizzare a tuo piacere o mettere anche altri sticking e altri rudimenti. Buon weekend, il risotto mi aspetta! Grazie!